Praticava la professione medica e l'agopuntura ma non era in possesso della laurea in medicina né tantomeno dell'abilitazione e dell'iscrizione all'ordine dei medici. La Guardia di Finanza di Padova tramite una serie di servizi di osservazione, controllo e pedinamento ha smascherato il falso dottore che praticava in uno studio al pian terreno di un condominio nel quartiere Terra Negra. Durante gli appostamenti finanziari hanno avuto modo di osservare un fitto via vai di clienti che entravano ed uscivano dal locale. I successivi accertamenti hanno evidenziato come la clientela di questo falso medico fosse composta da persone di varia estrazione sociale ed occupazione, dallo studente al professionista per la maggior parte italiani. Nei guai un cittadino cinese al quale sono stati sequestrati anche medicinali ed unguenti di produzione cinese oltre a 2.500 aghi per la pratica dell'agopuntura.